Io adesso non ci sono, questa è la sigla che dovete immaginarvi però perché non posso fare la partita come vi ricordate dalle puntate precedenti. Faccio la coreografia della sigla intanto perché la musichetta era un bravo di corte ovviamente. Fa così la sigla. Quella nuova, non questa che mandiamo di solito adesso, quella che verrà tra un po' fa così. Intanto ciao, ovviamente questo trattino era solo per fare arrivare la gigante perché comunque quando fai partire senza cazzillo ci mette sempre un po' ad arrivare. Quindi ho pensato che mi faccio la sigaretta, ma ancora non me ne faccio saura, quindi stavo con i redditi a flor di pelle e aspetto che arrivino i ragazzi. Infatti sono arrivati Pentium e Gard, i soliti due petrositi in mezzo alla minestra come si dice nelle mie parti. Però vi voglio bene ragazzi come al solito, siete pezzi di cuore. Ciao, 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 ciao. Oggi mentre che arrivano gli altri proseguiamo con le live fatte per bene. O perlomeno riprendiamo con le live fatte per bene perché era comunque da un po' che andavo un po' a cazzo dritto. Ho fatto un po' di live chillate più che altro anche per costruire un po' di più relazioni eccetera. Lo sapete come sono io, ho un pezzo di cuore, vi voglio bene e voglio fare un po' di discussione ancora aperto con voi. Intanto ma anche parlare delle nostre solite cazzate insomma. Però oggi riprendiamo a farlo con un po' più di parvenza, di professionalità perché bisogna andare dritti per la propria strada e perseguire i propri obiettivi. Ci stava bene quel discorso motivazionale. Come potete vedere dal titolo ho organizzato il Manga Club in una maniera un po' differente da come l'avevamo cominciato ma poi è proprio il modo in cui l'avevo pensato. Ovvero in certo senso a compartimenti stanni se vogliamo, ma con più argomenti in pratica. Qui ne ho messi nel titolo 3 cercando di imitare la struttura dei titoli dei capitoli di Hunter x Hunter. Ovviamente alla mia maniera perché non è proprio così. Parleremo di queste varie cose ma anche di Goodbye Airy visto che c'era chi me l'aveva chiesto in maniera abbastanza interessata. Ecco appunto Luca il proletto che era proprio quello che l'aveva chiesto in maniera abbastanza interessata non ha ricevuto la notifica. Grazie mille Twitch che vi asci sempre a colpire e interessare le persone che sono disposte a venire live. Grazie mille, grazie mille per questa funzionalità. Però come appunto potete vedere dal titolo ci sono anche delle altre cose che un po' in questo periodo hanno stuzzicato la mia curiosità e il mio interesse. E poi ultimo periodo ci sono cose che ci portiamo anche appresso da un bel po' di tempo come per esempio la questione dei filler. Fabio oggi mi è capitato per esempio di vedere che è stata fatta una petizione riguardo a Bleach per cercare di convincere lo staff che si recupererà della nuova stagione a non mettere filler appunto nella nuova ondata di puntate. E quindi parleremo anche di questa questione per vedere un attimo filler no, filler sì, è una cosa positiva, è una cosa utile, è una cosa da fare, è una cosa non da fare. Poi ci concentreremo su una notizione dell'ultima settimana che è la chiusura di Manga Vibe, da qui la fine del manga italiano con un salito titolo sensazionalistico. E poi che cosa a me era rimasto? Aspettate un secondo, vi dipendico due secondi dopo. Tokyo Revenge fa schifo perché è uscito oggi l'ultimo capitolo e basta, basta. che ma qui non se ne può più, basta. Quindi discuteremo un pochettino anche di quello. Ma come al solito partiamo con i nostri 15 minuti di cazzeggio quotidiani e vediamo un po' che cosa mi offrite oggi per iniziare la conversazione. Ovviamente cazzate come ci puoi far vedere l'armadio, no perché la webcam non ci arriva fino all'armadio, però vi posso far vedere le ante dell'armadio, anche il fatto che lì c'è uno specchio sull'armadio, che è doppia feature. Fujimoto, fratello di tutti? Sì, 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 potrebbe anche essere in realtà mio cugino, di secondo grado, perché si notano proprio tutte quelle cose con cui io sono cresciuto, in un certo senso. Credo che io e Fujimoto abbiamo un'esperienza di vita abbastanza simile, almeno dalle cose che scrive, ecco. Poi non ho questa arroganza di vedermi Fujimoto e chi cazzo lo conosce. Italo, ti vedo carico? Beh, ma termina più che altro professionale, ecco. Mettiamola così, oggi sono un po' più nel mindset di fare le cose in maniera più tranquilla del solito. Mi faccio prendere la pressione dall'assenza di giaggio, lo sapete che quando non c'è per me è come un colpo al cuore, mi sento male. Tokyo Revengers, mamma mia, che brutta china che ha preso. Se fosse solo questo e che fosse solo una questione di brutta china, sarei anche ancora sul treno di Tokyo Revengers. Ancora non avrei così tanta voglia di saltare giù dai binari e di schiave la morte pur di andarmene. Il fatto è che proprio è diventato illegibile, secondo me. Ormai è proprio cambiato da così a così. È una cosa che francamente non avrei mai previsto. Poi però, avendo letto le altre opere di Wakui, a posteriori mi rendo conto che avrei dovuto prevederlo. Perché, per esempio, non tanto Shinjuku Suon, che ancora nella traduzione inglese non è arrivata alla conclusione, ma se chi sei inco, c'è uno dei finali più atroci che abbia mai letto, raga, eh. È una serie super incasinata, dove ci sono un sacco di misteri, poteri psichici e cose del genere e il finale è un mindfuck assurdo, davvero non ha senso. Quindi, a posteriori, se avessi letto quella precedentemente, avrei potuto farmi meno aspettative su Tokyo Reagers. Già, stanno inquadrati con la produzione, figurati se possono mettere pure filler. No, ma in realtà, il caso di Bleach, poi ne parliamo più approfonditamente dopo, è che quelle saghe che dovrà adattare sono piene di filler, già di base. La saga dei Fullbringer è un fillerone, proprio tutta quanta, perché serve soltanto a ridare i poteri a Ichigo, dopo che li ha persi. Quindi, già partendo da lì, già parti con un fillerone, con qualcosa di cui in realtà non c'era bisogno, che bastava che Ichigo i poteri non li perdesse e tutta quella saga non sarebbe mai esistita. Così come, poi, nella saga dei Quincy ci saranno un sacco di battaglie che servono soltanto ad allungare il proto. E quindi, già ci lamentiamo di una cosa che è stato l'autore stesso a fare. Ma, vabbè, sono le classiche cose, no? Nei manga, i filler, mica, esistono! Ita, l'hai visto? Sei uscito Summertime? Stefano, non ancora, anche perché, come vi ricordo, il Disney Plus non ce l'ho. Quindi dovrò trovare un attimo il modo per vedermelo. Ovviamente, farmi l'abbonamento, perché non c'è altro modo per vedermelo. Poi sfrutterò la cosa. Perché Red l'ho visto con un altro abbonamento. Intanto non so se l'avevo detto, non mi ricordo. Ho visto Red, quello della Pixar. E non mi è dispiaciuto. Non mi ha convinto del tutto a livello di esecuzione, però ci ho trovato diverse cose interessanti, come la presentazione degli anni 90 e così via. Non mi pento allora di averlo droppato al decimo volume. Non mi ricordo che cosa succederà al decimo volume, ma comunque fino a metà serie era abbastanza interessante. e rimaneva ancorato ai suoi concetti base, a quello che effettivamente sembrava poi volesse raccontare. Ora è un cavallo pazzo, un trenet totale, non c'ha più senso di raccontare nulla alla fine. Idola stasera ci vediamo alla Principessa Splendente al Cineforum. Caro Pentium, se siamo rimasti così ieri con i ragazzi, suppongo di sì, che ci siamo organizzati in chat, quindi immagino che si faccia. Per chi è interessato e chi è ovviamente abbonato, oggi appunto al Cineforum su Discord ci guardiamo per l'ennesima volta. la storia della PC Splendente di Sao Takata. Per chi l'ha visto e per chi non l'ha visto, è comunque un'esperienza imperdibile, quindi venite in caso. O fate l'abbonamento per venire. Eh, più fratello Fujimoto o Amemilia? Da un punto di vista proprio appunto delle esperienze, anche degli ideali, ti direi Amemilia, perché è proprio quello più vicino in questo senso. Fujimoto, alla fine, la vicinanza che ci rivedo è data dalla passione per il cinema, per esempio, dall'idea che ha dei supereroi, che è molto vicino alla mia, paradossalmente, e così via. Mentre Amemilia è tutto, tutto quello che fa, praticamente è tutto quello che ama, e di cui inseppa le opere. Italo, sono rimasto davvero impressionato da Eike Monogatari. Ne avete mai parlato in dettaglio? Allora, Kizaru, io ancora no, però Gesù ha fatto due post sul nostro popolo Instagram, in relazione ai fiori. Quindi se ti interessava anche quella tematica lì, un po' la simbologia che sta dietro al linguaggio floristico, puoi trovare un approfondimento interessante da parte di Giaggio. Per quanto riguarda me, devo ancora guardarla alla serie, quindi non posso darvi per forza di cose un'opinione, però sicuramente è una delle cose che guarderò in prossimità. Ovviamente con la Yamara, non si scherza, soprattutto quando poi è supportata da persone che comunque stimo molto, come quelle che fanno parte di Senza. È comunque una serie, Kizaru, che non dico è arrivata all'attenzione nel stream, perché assolutamente no, però nell'ambiente degli appassionati di animazione giapponese ha visto un buon successo. Appunto anche su Anime Click diversi, l'avevano valutato bene e ha avuto diverse nomination agli award di Anime Click. Peggio, Tokyo Revengers o la piega auto nel Torari diventa al Geerfiend? È praticamente meglio la morte sulla sedia elettrica o per impiccagione? Cioè muori in entrambi i casi, quindi fa schifo fa schifo in entrambi i casi. Però boh, qui dipende poi da quanto si fossero affezionati secondo me alla serie di quante aspettative ci si potessero fare sopra. Mentre a Geerfiend già dopo un tot di capitoli, dopo le classiche ripetizioni, i soliti stereotipi e così via, ti potevi aspettare che prendesse una piega appunto molto stereotipata, troppo classica e fin troppo banalizzante. Mentre invece in Tokyo Revengers almeno io ho sempre avuto la speranza che si potesse mantenere su ottimi binari e spiegare le domande enormi che pone senza perdersi in 3.000 bicchieri d'acqua. Così, purtroppo. Non è stato. Ma adesso dopo vediamo anche magari i perché. Perché guarda, ti capisco che io non volevo esagerare, ma orbeghe ogni capitolo con una tristezza per come mi aveva preso all'inizio. Sì, poi gli ultimi capitoli si collegano pure al discorso dei filler perché appunto almeno da 30 capitoli quello che sta facendo è prendere tempo. Prendere tempo perché almeno secondo me non ha più palida idea di come spiegare tutta la storia. Di che cosa dire è per appunto esplicare come è partita, chi è il mastermind che sta dietro tutti i misfatti è quello che è successo per davvero. E quindi sta un attimo mettendo cose a caso come 3.000 personaggi nuovi, battaglie totalmente inutili e kakemici che prima dice no voglio combattere poi non voglio combattere poi voglio combattere poi non voglio combattere per appunto provare a tirare fuori qualche coniglio dal cappello fare l'illusorista. Eh Vittorio mi dispiace non sai quanto perché alla fine siamo vittime tanto quanto te però purtroppo dobbiamo tutti condividere questa esperienza orribile del tremendo declino di Tokyo Revengers. Ok siamo nel 16.15 quindi leggo le ultime domande e poi partiamo con gli argomenti. A proposito di anime tratti da manga datati dovere avere aspettative sul remake di Lamu? Io non so niente del mondo Lamu né manga né anime. Allora Blink Spark dipende molto dai devusti secondo me Lamu è rimasta una serie molto fresca comunque perché è uno di quei dieci comunque trainati da personaggi molto carismatici e che comunque nelle decadi non sono mai invecchiati così tanto. Tanto Lam quanto a Tauro e gli altri personaggi con primari sono sempre molto di impatto riescono sempre a tirar fuori un sorriso o anche una lacrimuccia di tanto in tanto per le relazioni che intrecciano durante la serie. Sull'anime sembra che ci stiano puntando davvero tanto perché per esempio sono uscite le informazioni sui doppiatori in queste ultime settimane e si tratta di nomi di grandissimo peso come Hiroshi Kamia Mamoru Migliano insomma i soliti che si prendono quando si vuole pompare dal punto di vista mediatico il cartone. e poi David in realtà già con JoJo con l'ultima stagione Son Ocean ha dimostrato di voler investire le proprie maggiori risorse su quel progetto lì che giustamente a livello di nome è un po' più forte in termini internazionali il successo di JoJo comunque è un po' più recente rispetto a quello di Lamu in Giappone è sempre stata una killer application però al di fuori di quelle di quei confini nazionali il vero successo l'ha tenuto con appunto il remake dell'anime e potrebbe essere un po' anche l'effetto in cui David sta sperando con questa nuova con questa nuova trasposizione di Lamu sicuramente io sono molto curioso di vederla perché è una serie che ha fatto parte della mia adolescenza che mi ha formato dal punto di vista del gusto anche erotico in un certo senso quindi si aspetta a braccia aperte e ovviamente vi invito a vederla perché potrebbe essere un evento non tanto per il pubblico nuovo di appassionati ma per quello vecchio che con queste operazioni di solito torna sui propri passi peccato che non fosse successo per Tiger Mask W che è praticamente il miglior remake che sia mai stato fatto purtroppo non possiamo avere tutte le soddisfazioni dalla vita per Summer Time vi state sintetizzati sintonizzati Angelo già non partiamo bene se sul titolo di lì fai tu vi state sintonizzati sui social dei volleyball fan subs una male di lavoro di un'idea di mente e persone mai viste ma perché? non l'ha licenziato Disney Plus? perché lo fate voi? fanno la vediz totale non ho idea di come uscirà su Disney Plus quindi eruditemi un attimo perché non voglio essere costretti ad aggiungervi al mio libro nero di 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 fansubber che hanno deviato dalla strada giusta e sono diventati dei warrets non voglio farlo eh non voglio mettervi qui non fatemelo fare bene vediamo se c'è qualcos'altro nore slime non farò un live da dentro all'armadio ed è stato tremendo vestirmici l'ho quasi distrutto lasciamo per non avete visto niente voi questo non è non è quello che pensate questa è un'altra questa è un'altra cosa un'altra cosa grazie da parte che mi sono visto settimana scorsa la diroggia di Lupin il cala design di cala designer di la donna chiamata Fuggi Cominia Koi con il mio dio e su Lupin il mio preferito sì Koi che non è esattamente solo il cut il designer della donna chiamata Fuggi Cominia comunque è un animatore molto importante oddio per cui è un po' difficile lo sai perché alla fine è uno che a livello davvero intimo e personale non ha lavorato così tanto come magari gli si augurerebbe perché il suo stile è venuto davvero fuori con Animatrix alla fine e ancora prima con la sequenza animata che stava nel film Party No.7 mi pare si chiamasse una cosa del genere e prima faceva comunque cose molto tradizionali perché appunto lavorava spesso con Yoshihaki Kawajiri e lui voleva quello stile dell'animazione però comunque lui si è fatto le ossa prima come animatore e poi come regista fondamentalmente quindi comunque se non hai ben presente quello che ha fatto prima ti invito assolutamente a recuperare sia Headline che Trava che il corto che aveva fatto per l'Animatrix Runner qualcosa World Record World Record si chiamava sì World Record Italo se ATT fosse un manga di Shonen Jump quale sarebbe aspettate un attimo che non mi ricordo se quello era pubblicato su Shonen Jump se quello è pubblicato su Shonen Jump siamo questo un attimo eh dovrebbe essere stato pubblicato su Shonen Jump sì siamo Sakigake Otoko Juku classe di ferro che è un manga degli anni 80 di Shonen Jump appunto che parodizzava in maniera molto estesa e divertentissima Kenny Guerriero sin dal character designer sin dal character design sia dai toni molto hard-boiled e hot-blooded con sangue caldo come dicono gli inglesi ed è una serie molto stupida che appunto prende per il culo quel modello lì di hero e poi anche l'idea macista di uomo noi siamo siamo quello una costante presa in giro a tutto il mondo uno sberleffo come dicevamo ieri la commedia manzai lo scherzo giapponese la bulla nipponica le risate dal paese del sollevante e se fosse tutto in sogno prendo un aereo direttissimo per il giappone cerco l'indirizzo preciso in cui abita che è wakui e mi do fuoco assieme a lui risvegliandomi poi nel letto tutto soddisfatto perché appunto è stato soltanto un sogno e non farei mai una cosa del genere si luca sulla bu sembra che abbiano praticamente spostato lo staff che aveva reso poi bellissimo l'adattamento di vento aureo hanno investito quindi le le risorse più importanti che hanno in un certo senso quelle più di valore di qualità ah ok ok questo è su summer time rendering immagino quindi in pratica è solo giapp la velice su disney plus la bella inculata in pratica noi come ragazzo ce lo vediamo ladrandolo va bene waz mi raccomando eh togli di nuovo tempo ad ongaco e a bb per fare l'ennesimo cartone stagionale che i normi i casual non vedranno oppure vedranno piratato dai warez non ringraziandoti neanche per un secondo vai ci sono altre domande però ragazzi direi che a questo punto è meglio cominciare che siamo già alle 14 e 20 e poi in realtà questo è un format che si sposa bene con il continuare a fare domande a rispondere quindi partiamo con quel il primo argomento di cui devo trattare che è goodbye ieri Kizaru Tengu appunto mi chiede Italo ha riletto il one shot di Fujimoto e sì carissimo Kizaru e l'ho trovato davvero fantastico non vorrei partire subito a tesser nelle lodi in maniera così esagerata però è proprio quello che spero Fujimoto possa continuare a fare in maniera un po' più stesa e soprattutto quello che nel mondo del fumetto giapponese purtroppo manca non a livello di qualità o di tematiche ma a livello di idea nel senso che il fumetto giapponese è un fumetto seriale è un fumetto che deve uscire di settimana in settimana di mese in mese di due settimane in due settimane a seconda della periodicità della rivista e quindi è un fumetto che deve anche seguire delle regole molto limitanti che comunque impediscono talvolta agli autori di avere una visione d'insieme ben solida e che regga poi al peso della pubblicazione periodica quindi molto spesso noi vediamo storie come appunto quella di Tokyo Revengers che partono in quarta raccontando cose interessantissime e poi dopo alcuni anni di pubblicazione iniziano a mostrare tutti i segni di un declino inesorabile ed è una cosa che lo sappiamo accade a tantissimi fumetti a tantissimi fumettisti quindi vedere l'idea di un mangaka che può finalmente approcciarsi alla pubblicazione di un volume unico e di una storia che abbia un inizio e una fine estremamente coerente ed estremamente solido è quello che ci serve ed è quello che serve al mercato del fumetto giapponese soprattutto perché consente di dare più respiro agli autori e gli consente di esprimere davvero quello che vogliono dire perché sono anche magari operazioni meno legate ad un senso commerciale e più invece improntate al far rimanere vivo in questo senso il nome dell'autore che comunque Fujimoto adesso si sta preparando alla seconda parte di Chainsaw Man e ci vorrà ancora un po' di tempo pare quindi nel frattempo pubblica alcune storielle in maniera tale da continuare a tenere vivo l'hype sia sulla sua serie che su di lui però questo ci permette di vedere un'altra faccia dell'autore Tatsuki Fujimoto quel quel volto che poi super intelligentemente in questa in questa storia lui ha quasi voluto poi mostrare all'ospettale al lettore perché qui si parla di che cosa vuol dire raccontare proprio una storia si parte per chi non l'ha letto con questo ragazzo che filma gli ultimi momenti di vita della madre su richiesta della stessa che appunto vuole vivere attraverso le immagini del suo cellulare il video che fa il suo cellulare tuttavia alla fine di questo documentario si vede lui che non riesce ad affrontare proprio la morte della madre non vuole vederla nei suoi ultimi istanti e quindi scappa dall'ospedale mentre l'edificio esplode lui fa vedere questo corto questo mediometraggio al festival scolastico tutti rimangono scioccati dal cattivo gusto del finale tranne una ragazza che molto appassionata di cinema decide di convincerlo a perseguire questa storia a fare un altro film e da qui poi parte un po' tutta la vicenda che adesso non vi sto a spiegare perché comunque sembra semplice ma è molto più intricata di quello che vuole dare a vedere anche soprattutto a livello di non detto che ci sono tantissime vignette in cui non viene spiccicata una parola in cui si deve avere una certa attenzione per riuscire a capire in profondità quello che poi Fujimoto vede a raccontare attraverso quella cosa lì e si parla tantissimo di cosa vuol dire appunto in questo caso qui rappresentare la realtà rappresentare quello che vedi e raccontare attraverso il tuo sguardo il mondo che si apre attorno a te ed è interessantissimo perché si parte da un concetto che caratterizza la visione del protagonista in questo senso che è l'idea di aggiungere un tocco di fantasia alla realtà e se ci pensate è la stessa cosa per cui di cui io mi ero lamentato in riguardo a Mirai e anche Mirai Bell e anche ieri ho detto la stessa cosa nel discorso che facevamo con Paolo mentre stavamo leggendo la recensione ho detto che appunto a me tutta l'idea di Yu è sembrata molto superflua e mi ha dato proprio l'impressione che Osoda non riuscisse a raccontare una storia ancorata alla realtà senza fare poi affidamento su un elemento fantastico come appunto lo è la creazione di un social network con la realtà aumentata e tutto quanto e qui invece si fa punto di forza di tutta la narrazione perché il tocco di fantasia quella piccola voglia di cambiare la realtà per renderla un po' più affascinante è ciò che rende poi estremamente interessante sia la parte iniziale che quella finale è il rifiuto ma anche la totale accettazione di quello che ci dà la vita vera perché sì si prova a scappare vendendola più interessante vendendola più bella ma la si interpreta attraverso quella fuga in realtà il protagonista proprio alla fine riesce ad accettare tutte le tragedie che gli sono successe proprio perché riesce a vedere la realtà attraverso una lente che gli consente di vedere le esplosioni di pensare a una sua compagna di classe come a un vampiro e quindi di cambiare la prospettiva che solitamente invece lo butterebbe magari in una spiegazione di depressione e tristezza e lo porterebbe poi magari a qualcosa di davvero brutto molto molto interessante però prima di proseguire voglio vedere se avete letto qualcosina in merito no ho detto un cazzo in merito se non Luca il polento che dice quindi dobbiamo fare come tacate accettare la gioia di vivere in questo mondo no che Fajimoto non dice non si riferisce alla gioia o a un certo tipo di felicità e secondo me non c'è neanche una ricerca in questo senso qua di un posto felice o di qualcosa a cui appartenere ma c'è una comprensione di ciò che la vita ti butta addosso fondamentalmente dalla vita dalla merda ai fiori e quello che dice è non tanto accettare ma giocare con queste cose qui comprende le interiorizzarle e poi iniziare a vederle in maniera differente perché accettare non vuol dire tanto sopportare no dire ok mi è capitato non ci posso fare nulla andiamo avanti accettare vuol dire anche affrontare vuol dire anche confrontarsi con quel problema e cercare di venerle fuori un po' più forti perché sopportare non vuol dire poi riuscire a comprendere quello che ti è successo vuol dire invece fuggire vuol dire porsi un muro far sì che quel muro giù per giudichi quanto noi siamo capaci di affrontare quella determinata circostanza e quindi evitare che poi ci tocchi direttamente invece qui il protagonista si fa investire da quelle tragedie e davvero non riesce inizialmente a processarle perché per lui sono troppo grosse quindi quello che fa è semplicemente filtrarle attraverso l'occhio della telecamera del suo cellulare mettendole quindi attraverso uno sguardo differente e permettendo a se stesso di guardarle dalla distanza un attimo dice Blink Spark nel senso che come ah no aspetta un attimo c'è trovato molto riguardo alla consapevolezza di Fujimoto riguardo al rapporto tra l'autore di un'opera e fruitore assolutamente nel senso che come il protagonista si ritrova in una situazione complicata a causa delle critiche feroci da parte dei suoi compagni di scuola anche Fujimoto stesso sa che nella sua carriera avranno momenti difficili e complessi in cui dovrà subire critiche pesanti e talvolta ingiuste anche se ora è un autore molto amato ed elogiato da praticamente tutti non vive tra le nuvole e sa che questo mondo ti mette su un piedistallo per poi distruggerti un secondo ma Blink in realtà io questa cosa non ce l'ho vista tanto se devo essere sincero anche perché è un discorso un po' marginale all'interno dell'opera alla fine lui non fa quello che fa per essere accettato dagli altri oppure per dare peso così tanto alle critiche perché poi in realtà la sua ma non so se voglio fare sparare su questa cosa qui o meno facciamo così la sua scelta dopo la prima proiezione al festival non è in realtà così netta e decisa e si vede poi successivamente che lui aveva molti più dubbi che sicurezza in merito quindi noi non sappiamo neanche se non ci fosse stata quella presenza che cosa sarebbe successo quindi io non ci ho visto tanto questo discorso ce la puoi ovviamente rivedere perché c'è tutta lì la questione di lui che non riesce poi a capire perché gli altri abbiano visto così male la sua scelta di far esplodere l'ospedale alla fine e lì però ci ho visto anche più una comprensione di come comunicare agli altri perché appunto Fujimoto è un autore molto controverso è uno che ha sempre nelle sue opere più famose in quelle più lunghe cercato di affrontare tematiche che altri autori di fumetti per ragazzi solitamente non vogliono neanche provare a discutere invece lui si è buttato subito a capofitto per esempio nell'idea di che cosa è un eroe perché in Fire Punch di quello si parla ben prima di Attack on Titan si è buttato su nel Censomen che cosa è giusto e sbagliato però da un punto di vista totalmente differente e profondamente ancorato alla nostra realtà con la politica con l'idea della corruzione sociale e così via e quindi è anche un autore che sa bene che cosa vuol dire provare a comunicare queste cose ad un pubblico che solitamente non è abituato a vederle e infatti lì c'è anche una discussione per esempio sul vedere più film per provare a capire come gli altri si sono appoggiati al pubblico e processare internamente le informazioni che altri autori e altri film hanno sviluppato durante il corso degli anni c'è tutto un discorso comunque molto interessante a livello di autori e di pubblico però come dice Kizaru secondo me l'idea più bella è plasmare il ricordo di qualcuno decidere cosa tenere in vita di quella persona per un desiderio egoistico perché il film degli ultimi stanti non si fa per chi muore ma per chi resta però in realtà tutto giusto il finale secondo me apre anche un altro discorso che il riprendere una persona attraverso la propria lente di ingrandimento il proprio sguardo e ricordarla quindi per come la sia voluta ricordare permette anche agli altri in realtà di avere un ricordo preciso di noi che poi tutto il discorso finale punta proprio a quello nel momento in cui io adesso oggi vi sto parlando in questa maniera mi sto esprimendo con voi cercando per esempio di utilizzare un blessico abbastanza vasto di avere diversi toni che vanno da quello più tranquillo a quello un po' più ironicamente agitato e così via vi sto dando un modo preciso di come ricordarmi e soprattutto raccontandovi la storia di Goodbye Air in questa maniera vi sto anche mettendo nei miei panni in un certo senso perché vi sto offrendo la mia prospettiva quello che è il mio sguardo è anche un'occasione di ricordarmi così di ricordarmi come ritrovo che in Goodbye Air ci vedeva queste cose e quel discorso lì è molto interessante perché noi Martin Scorsese lo ricorderemo per quello che ci ha detto in Taxi Driver lo ricorderemo certo per la persona che è stata per davvero ma alla stessa maniera quell'impressione quella prospettiva è ricca per noi ha tantissimo da dirci lo aveva all'epoca così come lo ha ancora oggi e per Air ad esempio il film che Giuda ha fatto dice tantissimo su di lui dice tantissimo sul modo in cui lui la vedeva e questa è una tematica ulteriormente molto interessante perché poi si parla sempre di quello di cui i film parlano le serie parlano i fumetti parlano ma quasi mai di quello di cui i fumetti ci dicono sugli autori per esempio vabbè scusatemi non l'avevo letto scusatemi Luca cioè non l'ho spogliato apposta quella scena a spogliare tu mannaggia la morte mannaggia la morte il fumetti ci vede una persona che ha una grande consapevolezza sul fumetto per ragazzi e di come vada fatto assolutamente sì perché ormai il fumetto per ragazzi sia per un motivo di alzamento del target sia per il fatto che gli adolescenti non sono più il pubblico a cui lisciare il pelo e raccontare la storia della buonanotte c'è bisogno di alzare un po' il tiro c'è bisogno di essere un po' più consapevoli del fatto che gli adolescenti di oggi sono esposti ormai da quando sono piccoli a morte sesso e tutte quelle cose da cui solitamente i vari dogmi di Sean e Jump cercavano di proteggerli e lui lo ha capito alla perfezione sin da Fire Punch non tanto con Chinso Man che ovviamente ricama tantissimo su questo discorso e cerca di portarlo a un livello superiore secondo te per la seconda parte di Chinso Man per il continuo della cavella di Fujimoto potremmo vedere ancora quello stile Satoshi Koniano che comunque abbiamo già visto in altre occasioni beh Blink non capisco bene il paragone con Con se devo essere sincero perché non ci vedo praticamente nulla che gli colleghi anzi mi sembrano molto distanti francamente quindi non saprei come risponderti in questo caso qua se elabori un attimino di più mi spieghi quale sono le similitudini che ci trovi vediamo un attimo ti faccio il discorso però come poetica anche come visione del mondo mi sembrano molto lontani se devo essere sincero Scenzo Man mi ha molto stupito nel suo trattare l'importanza dei sogni e il desiderio di sacrificare tutto per ottenerli giusto per dire l'ultimo manga che ho letto che lo faceva era Berserk guardate ragazzi fatemi parlare di Scenzo Man perché ho fatto probabilmente uno dei video più belli in assoluto su Scenzo Man quindi se non l'avete visto vi consiglio di andare per la recuperare perché lì veramente mi sono superato del tutto penso non riuscirò mai ad arrivare alle stesse vette di comprensibilità e comprensione poi della materia va detto comunque che Fujimoto è proprio ossessionato dal tema del film come mezzo per crescere e conoscere il mondo è un tema sfruttato sia in Fire Punch che in Scenzo Man che qui assolutamente sì in Fire Punch era molto marcato e identificato come poi l'unico mezzo che in quella società c'era per riuscire a recuperare qualcosa della cultura passata per riuscire a vedere il mondo che si erano lasciati alle spalle dopo l'apocalissi e la strega del ghiaccio ed effettivamente è così perché noi quello che abbiamo della storia passata sono dei libri polverosi delle informazioni che non possiamo veramente verificare mentre invece il cinema e poi la fotografia anche l'immagine in generale è una testimonianza diretta di quello che abbiamo vissuto è una parte imprescindibile ormai della cultura moderna che continua tutt'oggi a rappresentare una possibilità per l'uomo moderno di ricordarsi un periodo che non potrà mai vivere e vedere soprattutto ciò che faceva una società all'epoca quali erano le caratteristiche e come si viveva per davvero quando vedi un corto di Buster Keaton si vedi qualcosa di estremamente comico e anche di legato al modo in cui si esprimeva la comicità all'epoca però c'è anche una rappresentazione sociale di quello che per esempio Buster Keaton voleva dire attraverso quel gag e quegli sketch e questo dà al cinema passato un valore culturale abbastanza elevato in realtà anche come il vedere semplicemente i primi corti dei Lumière quando vedi la calca di persone che si esagita per andare a prendere il treno e rimane stupita dalla bellezza della telecamera all'interno del cinema tu vedi una testimonianza di un qualcosa che non potrà mai ripetersi perché oggi siamo abituati alla magia del cinema mentre all'epoca era qualcosa di sensazionale e impensabile quindi iniziamo anzi vi cominciamo a dare un po' più di valore soprattutto perché può darci tanto il cinema passato che non vogliamo più recuperare o che comunque ignoriamo perché magari in bianco e nero o addirittura in quattro terzi e ok visto che ormai stiamo parlando di tutto Fujimoto una paolina anche per look back ma l'abbiamo parlato di look back quando uscì all'epoca anche quello mi era piaciuto molto qui c'era ancora meno necessità di utilizzare appunto il trucco di fantasia perché la tragicità l'intensità della vicenda della storia bastava da sola insomma era abbastanza per convincere a leggere e ad amare poi quello che voleva raccontare all'interno della storia oh Gesù io avrei bisogno andermi a prendere l'acqua perché inizio a sentirmi un po' strano però facciamo così mi prendo l'altra cosa che mi distende i nervi dove è una sostanza illegale il signor Twitch è un semplice drumino cioè anche il filtro normale vede quello di cose che non sono un imbecille con questi non filtri il THC quindi non può essere una sostanza illegale a quando il film di Fujimoto beh ragazzi alla fine se li mette a fare Roberto Recchioni i film prima o poi anche un Fujimoto 10 milioni potrebbero dare insomma una 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 che contatta Fujimoto e dice di fare un film magari ci potrebbe pure stare oh quanto vi conosco quanto vi conosco porca troia sempre a diffidare di me bravo ragazzo cristiano cresciuto con dei valori corretti con l'educazione fondamentale del sud come si chiama il tuo video se c'è insomma che vado a recuperarlo perché c'è insomma è diventato famoso pare si chiamasse però teoricamente se cerchi c'è insomma nita su youtube dovrebbe uscirti praticamente subito che fortunatamente è stato ben indicizzato infatti è andato discretamente bene perché 10 milioni 15 di anni fucimoto ti dirige shark nato 15 con piacere no ma poi ho detto una cazzata enorme perché 10 milioni in cinema giapponese non li vedono neanche con il cannocchiare a meno che non ti chiami da che esci video si non sono eppure in quel caso è difficile che ti li veda lo stesso idolo mi vieni di firepunch no non elaboro neanche che poi ultimamente non lo trovo neppure mi manca un volume di firepunch mi pare il 5 perché l'ho perso nel traslogo non ha più pari di te dove si è definito però non lo trovo stranamente che di solito io so cresciuto l'idea che i fumetti di star comics sono sempre recuperabili e invece ultimamente no che voi stronzi avete iniziato a comprare di più fumetti e quindi ce ne sono meno per me ok eh luca takobi non so che cosa sia o almeno non mi viene in mente che cosa possa essere però so benissimo che cos'è tokyo revengers e direi che possiamo passare a parlare di un attimino ma davvero brevemente anche perché ragazzi oggi penso di staccare verso le 5 e mezza che c'ho un botto di roba da fare e di sicuramente sicuramente di sicuramente vedete c'ha l'esaurimento nervoso inizio a prendere piede sicuramente non so non vedo l'ora di falle quelle cose lì quindi penso che verso le 5 e mezza staccherò e di queste cose ne parliamo in maniera un po' più rapida almeno io tokyo revengers perché poi è una cosa di cui effettivamente non è che ci sia bisogno di discutere molto perché nel momento in cui 100 capitoli fa ha iniziato a dare indizi sulla grande rivelazione che ormai ci accompagna dal primissimo capitolo dell'opera e dopo questi 100 capitoli ancora non sappiamo un cazzo di niente già c'è un difetto enorme grande quanto una casa se poi ci aggiungiamo che gli ultimi 30 capitoli sono stati semplicemente ricostruite combattimenti inutili aggiungendo personaggi super forti che poi vengono sconfitti con un buffetto da parte di personaggio X già fortissimo riusciamo a capire che Waku Yi sta davvero andando a caso a livello di progressione narrativa che magari ci sarà un obiettivo a cui arrivare ma l'idea del come arrivarci non è stata poi processata così bene perché effettivamente tutto quello a cui stiamo assistendo è un costante come dicevo prima prendere tempo per far sì che il finale non arrivi subito che ci sia ancora una costruzione di quello che speriamo possa essere un mistero realmente risolto che non è tanto quello del come lui ha avuto i poteri di questo non ce ne deve interessare nulla che alla fine il fantasy l'idea che sta dietro al fantastico è appunto un'idea che non sussiste nella realtà e che quindi non deve trovare un riscontro in qualcosa dispiegabile e credibile io posso tranquillamente starci che lui torni indietro nel tempo semplicemente perché è così però nel momento in cui spoilerone quindi chi è molto indietro con la serie sta leggendo sta seguendo le città italiane si tappi le ovecchie facendo così per un minuto finché non dico fine spoiler quando muore Tetta tu già devi iniziare a dire qualcosina perché lui dice ah allora non è capito niente io sono e io sto col cazzo in tiro da quando lui dice io sono sto sul bordo del precipizio a cercare di non cadere o almeno di non cadere assieme all'opera e purtroppo a quella cosa finora non ha avuto non ha dato minimamente seguito se non con un piccolo capitolo flashback dove spiegava il rapporto tra Tetta e il suo subordinato e alla fine c'è appunto il suo subordinato che diceva adesso ti racconto la nostra vera storia facendo sottintendere che ci fosse un collegamento appunto al mistero più grosso che è quello che cosa c'è dietro tutta questa vicenda che cosa ha realmente innescato poi la vendetta di Takemichi speriamo possa iniziare a dirci qualcosa fine spoiler potete riprendere ad ascoltarmi finisce come Lost speriamo speriamo perché sarebbe una cosa che potrebbe tornare a dargli dignità e vi ho detto tutto se conoscete il finale di Lost o almeno se avete sentito parlarne negli ultimi dieci anni come uno dei finali più insulti e brutti della storia della televisione poi non è che lo sia secondo me non è un bel finale per nulla però è sicuramente amplificata la percezione che se ne ha avuto da quanto sono state belle le stagioni precedenti e quanto sia stato interessante tutto quello che ha stato costruito ma come Italo mi stai dicendo che le sfilate di moda sono filler per pubblicare qualcosa sì 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 ma anche per farti tornare ad odiare completamente Takemichi a fartelo vedere come un cretino che non sa che cosa sta facendo perché lì poi c'è anche secondo me un tradire quello che era l'idea principale dell'opera che era il far maturare tra amici come persone e per carità non è neanche totalmente incoerente perché poi l'idea per cui lo fa è proprio finalizzata a quello è finalizzata al tornare a salvare tutti quanti ma nel momento in cui Takemichi si rende conto che non può farlo dovrebbe cercare un altro modo non continuare a insistere su una strada che sa essere sbagliata perché altrimenti proprio neghi il concetto di crescita che stava alla base nel percorso del protagonista ma vabbè lo sta facendo giocato a 100 capitoli quindi nulla di cui stupirsi Drellar sono d'accordissimo su questa cosa qui alla fine quello da cui siamo stati delusi tutti quanti è che ci aspettavamo qualcosina di più qualcosina che potesse far tornare tutto quello che era successo in maniera un po' più logica e precisa però era anche difficile secondo me per quello che ho detto prima nel momento in cui introduci un elemento soprannaturale anche se molto vago poi è difficile andarlo a spiegare senza che lo spettatore rimanga deluso anche in minima parte per questo per esempio sono rimasto felice che in Game of Thrones non abbiano neanche provato a spiegare l'esistenza degli estranei o a dare un background più profondo e inintricato con collegamenti magari alla storia reale di Westeros che si sarebbe fatto un casino inarrabile basta dire semplicemente sono creature magiche e non lo devi spiegare perché la magia non esiste quindi come fai a spiegarla andrà bate così da nulla ti piacciono i film dello spiderman di Tom Holland sì ma solo in quanto fan di spiderman se li guardassi con un occhio più obiettivo e ragionato sono dei film estremamente commerciali e che fungono un po' da prese per il culo nei confronti dei fan perché per dire l'ultimo farm from no qual era home 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 come cazzo si chiamava l'ultimo farm from home home l'ultimo 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 film con lo spiderman dove ci sono pure spiderman di Andrew Garfield e tommy mcguire è un grosso omaggio alla storia di spiderman in tutte le sue salse con un sacco di riferimenti proprio a tutto il percorso del personaggio ho fatto negli anni 60 fino ad oggi e io in quel senso lì l'ho adorato ma poi in termini narrativi è una presa per il culo dopo l'altra con un'assenza totale di pathos in scene che invece dovrebbero essere piene spoilerone è lo spoiler della scena clou del film quindi se non l'avete visto avete intenzione di farlo di nuovo dita nelle orecchie la 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 quando muore Zia May è una delle scena più brutte del film è veramente atroce a livello di realizzazione perché tu non riesci a livello di inquadratura si perde tutta l'emozione del momento non hai una per esempio prospettiva del reale dolore che sta provando Zia May perché la scena di lei che rimane infilzata è realizzata senza far vedere appunto lei che rimane infilzata e quindi a livello di pathos non ti viene trasmessa una reale emozione non percepisci davvero il dolore e il momento catartico che Peter sta vivendo in quell'istante l'unica magari sensazione forte che riesci a provare è tramite la vicinazione di Holland che lì un po' si è superato perché per me non è un grande attore però è uno che si sta costruendo una buona capacità attoriale ha anche fatto delle prove recenti per esempio quel film su Netflix con il diavolo di mezzo se non mi ricordo qual è il titolo ambientato nell'America rurale che era abbastanza bellino e lui era stato molto bravo lì però a livello di scena per l'importanza che doveva avere è davvero bruttissima e questo ti fa capire come il film cerchi più di attaccarsi a dei momenti cheap che appunto sono economici a livello di trasporto e di coinvolgimento più che poi costruire un vero discorso e una vera storia coinvolgente da questo punto di vista qua ok continuiamo un attimo sulle domande che esulano un secondo dei discorsi e poi riprendiamo con i vari argomenti che fanno parte di questa puntata del manga club dove cazzo era moco il commento che volevo leggere me l'ho perso ecco qui xxx trattino basso fra trattino basso zero due visto il primo episodio di speriment family se no hai letto qualcosa dell'opera l'ho visto prima di cominciare la live quindi sei fortunato oggi e mi è piaciuto parecchio avevo già letto i primi cinque capitoli dell'opera su manga basso all'epoca quando erano usciti vorrei iniziare a recuperare un attimino del manga quando completo qualcuna delle serie che sto seguendo in questo momento perché comunque è una serie che riesce ad alternare molto bene i momenti comici con quelli un po' più seriosi e questa cosa qui la fa riuscendo a caratterizzare bene in entrambi i lati i protagonisti perché quando per esempio nel primo episodio tu vedi Anya prima come una ragazzina che sfrutta la telepatia qui in senso comico per soddisfare tutti i bisogni del suo padre adottivo e cercare di evitare di essere mandata via e poi in contrapposizione vedi il suo senso d'abbandono e legato al suo passato alla sua origine vedi una buona caratterizzazione del personaggio fin da subito che mostra diversi lati della sua personalità e non soltanto uno stereotipato su cui magari gli otaku possono trovare degli anelli di congiunzione ideali perché poi ho già letto delle cose davvero atroci su twitter riguardo a Anya sia dalla facciata dei social justice warriors sia dalla facciata dei totali pervertiti però questo primo episodio è stato sia divertente che emozionante che coinvolgente e lo consiglierei sicuramente a chi a livello di animazione non segue tantissimo o comunque non ha ancora una cultura enorme e vuole iniziare a passare da serie estremamente mainstream a qualcosa di un po' più ragionato perché poi sicuramente questa è una serie che riuscirà ad attrarre l'attenzione del pubblico più casual perché anche ben confezionata in quei termini lì però può piacere indubbiamente anche a un lettore un aspetto più navigato rukachan io ho sempre paura nel cominciare opere come Tokyo Revengers ad esempio ancora non leggo kaiju number 8 perché non so se effettivamente se prima o poi possa sfanculare tutta la storia solo perché deve continuare a vendere e quindi deludermi per una innovazione che non so quando possa terminare questo è un problema bello grosso come vi dicevo prima è purtroppo correlato a doppio filo con l'intera storia poi del fumetto giapponese di come si è evoluto e di quali tipi di pubblico ha voluto raggiungere all'interno della sua vita fondamentalmente e anche di come poi Shonen Jump imponendo un modello tramite gli enormi successi commerciali che ha avuto negli ultimi 40 anni abbia poi condizionato il mercato in questo senso qui non è un caso che parliamo di cambiamento del fumetto per ragazzi negli ultimi 8 anni e in un periodo in cui Shonen Jump ha un po' perso il suo ruolo di rivista ammiraglia del fumetto giapponese di simbolo sia del fumetto per ragazzi che del manga in generale ovviamente ancora noi occidentali pensiamo al fumetto giapponese strettamente in relazione a quella di vista lì però non si può neanche negare che abbia sicuramente perso colpi rispetto alla grandezza che aveva nel primo periodo degli anni 2000 quando i big three andavano per la maggiore oggi comunque siamo sempre attratti da serie della Konasha come per esempio Shinjaki no Kyojin piuttosto che Tokyo Revengers che hanno avuto un successo comparabile in certi casi anche superiore rispetto a quello di serie di Shonen Jump e hanno quindi anche permesso al mercato di variare un po' di più ora ovviamente si spera che il modello di Shinjaki no Kyojin e l'idea che un fumetto di successo possa rimanere tale anche seguendo un modello di pubblicazione diverso possa condizionare il mercato come l'aveva fatto all'epoca Dragon Ball in senso negativo quindi imponendo il modello di una serie che deve continuare ad andare avanti con una struttura ripetitiva finché non esaurisce il suo momento di successo e la sua nomea di gallina dalle uova d'oro però sicuramente è una cosa difficile da realizzare soprattutto quando si parla poi di fumetto per ragazzi e di riviste che hanno bisogno di mantenere l'attenzione su di esse poi quella su cui è pubblicato Tokyo Revengers che è la stessa su cui è pubblicato anche Agimo Yip altre serie di successo poi non è una serie così tanto dissimile da non è una serie così tanto dissimile da Shady Jump in termini di pubblicazione ci sono anche serie come Major per esempio che vanno avanti da decine e decine di anni non Major lo teniamo in dove è visto scusate o forse anche Major mi sa che pure Major l'ha pubblicato lì che ho fatto 5 ok andiamo avanti ancora nella mezz'oretta ragazzi vedo ancora che c'è un pochettino in chat passiamo al prossimo argomento e direi di passare al prossimo argomento perché non vedevo nient'altro passiamo all'argomento dei filler perché anche questo penso ce lo torniamo di torno in maniera abbastanza veloce giusto per vedere un attimo qual è la vostra opinione sui filler perché negli anni io ho visto dire di ogni sulla questione e ovviamente mai qualcosa di positivo sempre inutili sempre uno specchio di tempo sempre qualcosa da evitare a tutti i costi perché non canonico nel caso di Bleach come dicevo prima ha attirato l'attenzione dei fan perché deve uscire a una stagione e in molti si sono detti spavorevoli a dei possibili filler in realtà parliamo di una serie che nella sua versione animata ha brillato quasi di più per questi archi che per quelli canonici perché alla fine sì l'arco degli spada piuttosto che quello dell'ecomundo sono comunque parti narrative di Bleach piuttosto interessanti che sia nell'economia dell'opera che nel periodo nel panorama del periodo di quegli anni lì comunque leggevano molto bene il confronto con gli altri grandi battle di jump e di extra jump erano degli archi abbastanza intrattenenti che a livello d'azione promettevano degli scontri ben realizzati con carisma a confronto per esempio nel caso di ichigo ichigo il chiorra noi tra i zarachi e così via quindi c'erano delle cose su cui comunque si poteva basare un'ottima progressione qualitativa e con cui i lettori potevano passare degli ottimi momenti però al di là di quello e della social society bene o male invece è una serie estremamente ripetitiva scritta da una persona che non sa scrivere quindi per esempio l'arco delle zampa kuto presente soltanto all'interno dell'anime permetteva di avere uno sguardo diverso su un'ambientazione che Kubo non si è mai preoccupato di definire realmente e che di arco in arco continuava a cambiare aggiungendo cose che tirava fuori dal cappello semplicemente perché gli servivano per mandare avanti quelle circostanze lì quindi io in realtà nel caso specifico sono sempre stato dell'idea che nel momento in cui una storia è scritta da una persona che non sa scrivere e nella sua versione animata uno sceneggiatore decide di intervenire su un elemento di world building piuttosto che di caratterizzazione del personaggio e riesce a sapevolo fare io non credo bisogna averci qualcosa in contrario perché l'opera originale la coerenza della storia sono cose come sapete bellissimo in questo tipo di trasmissioni lasciano totalmente il tempo che trovano anche perché non parliamo poi di serie da un numero di episodi basso o che probabilmente non andranno avanti perché nascono a causa di una necessità commerciale di pubblicità qui parliamo di una serie andata avanti per 300 episodi e che a distanza di 10 anni ha ricevuto un nuovo adattamento animato che porterà a termine la storia quindi parliamo di qualcosa che per necessità deve avere anche dei spazi per respirare delle bolle d'aria che consentono all'animatori sceneggiatori e registi di proseguire nelle varie rotazioni e prendersi il tempo necessario a avvenizzare con tutti i crismi la serie sto iniziando a avvertire una mancanza di ossigeno dovuta al fatto che oggi sono stato idiota e non ho impito l'acqua però ragazzi reggo non mi preoccupate ed obiettivamente come vi dicevo prima i filler non sono neanche una cosa esclusiva degli anime se ci pensiamo no quante volte gli autori prendono tempo nelle proprie pubblicazioni perché è difficile avere sempre delle idee che mandino avanti la storia soprattutto quando si parla di battle o comunque di fumetti d'azione che di per sé non hanno una progressione narrativa così intricata o così basata su eventi davvero come posso dirvelo davvero fondati su un'idea di scrittura che si basi su tanti eventi singoli alla fine l'azione va avanti grazie all'azione va avanti grazie al combattimento quindi non c'è quasi mai una storia che realmente colpisce appunto per l'intricatezza della storia per quanto bene sia scritta da quel punto di vista il battle ti colpisce per esempio per le emozioni messe in gioco durante il combattimento per quello che lo scontro tra due personaggi implica a livello di discorso di maturazione piuttosto che di cambiamento quindi ha elementi collaterali al al mezzo narrativo che è appunto quello del battle e di conseguenza è molto comune che un autore di fumetto per ragazzi ricorra a capitoli che semplicemente allungano la storia e magari aggiungono qualcosina a livello di personaggio però alla fin fine nell'economia totale della storia sono decisamente poco utili sono cose che abbiamo visto in dragon sono cose che abbiamo visto in one piece sono cose che abbiamo visto in naruto appunto in bleach che continuiamo a vedere in Tokyo Revengers e che addivettura si sono viste pure in Attack on Titan perché purtroppo non si sfugge a quest'idea del mercato fumettistico governato da una costante necessità di uscite periodiche e rapide soprattutto soprattutto nel periodo moderno nella società della velocità e della comodità sono cose che si rendono sempre più necessarie e che dal punto di vista del lettore poi in realtà non sono neanche negative perché appunto non si percepiscono come filler ed è questa la cosa che un po' mi ha sempre fatto riflettere nell'arime è automatico percepirli come tali perché che l'assenza la loro assenza nella versione originale li fa subito etichettare come qualcosa di aggiunto da qualcuno che alla fine non ha nessuna voce in capitolo realmente e che semplicemente lo sta facendo perché non magari sa raccontare davvero la storia originale mentre invece nel caso dell'autore il filler è la storia originale è la storia canonica è quello che davvero voleva accontare anche se nella maggior parte dei casi poi non è così e poi si torna come al solito al classico discorso dell'anime che è soltanto un appendice del manga perché dovete continuare a lamentarmi ragazzi di anime di time su questa cosa ci avete fatto due coglioni così basta non se ne può più non se ne può più accettatelo ragazzi di anime di time l'anime inferiore al manga per questo l'autore può fare il cazzo che vuole e romperci coglioni con capitoli totalmente inutili estremamente ripetitivi come per esempio tutta la battaglia tra Zaraki e il tizio che il tizio che ha l'immaginazione che diventa realtà non ci riesco a pensare scusatemi ragazzi torno torno sui binari non ci penso a questa cosa perché se no partiamo con un discorso su blitz che sicuramente non volete ascoltare un attimo che sono attivate un paio di considerazioni che andiamo subito a leggere un attimo ci sono una settantina di liste shonen dice der 8 l'artista un po' che la gente prenda sempre solo jump come riferimento per il mercato anche perché il modello a votazione lo trovo troppo condizionante mentre sulle altre liste gli autori sono un po' più liberi sia per storie che per tematiche forse la troppa la troppa sovraesposizione al pubblico estero l'ha fatta cambiare un po' troppo jump ma in realtà credo che jump sia cambiata più che per la sua esposizione all'estero per il fatto che è il mercato interno ad essere cambiato tantissimo negli ultimi dieci anni non a caso sia con cazzo che non abbiamo spesso parlato di come oggi il pubblico principale di shonen jump non siano più i ragazzini delle superiori ma i salaryman che nel tragitto da casa al lavoro si comprano shonen jump e se lo leggono in metropolitana magari evitando di leggere ogni singolo fumetto contenuto sulla lista perché sono interessati solo due o tre poi sì sicuramente oggi il pubblico estero sta iniziando ad avere un'influenza un po' più marcata sulle pubblicazioni giapponesi però è un lato che ha condizionato di più gli anime che i manga ancora il mercato fumettistico secondo me è un po' lontano dal potersi dire realmente influenzato dai nostri gusti e dalle nostre richieste se non in casi molto specifici mentre invece gli anime con la presenza su piattaforme che sono per l'appunto estere hanno la necessità di iniziare a parlare un po' di più a noi anche tramite soluzioni narrative e culturali che sono strettamente vicine a quello che viviamo ogni giorno e poi per il resto sì io sono completamente d'accordo perché al di là del numero di riviste per ragazzi il mercato del fumetto in giappone ha centinaia e centinaia di riviste proprio in generale in un momento storico in cui la rivista proprio la rivista in sé per sé sta morendo praticamente in tutte le altre parti del mondo la rivista di fumetti è qualcosa che già in Italia fatichiamo a concepire per dire e poi adesso ci colleghiamo un secondo all'ultimo argomento della giornata proprio tramite questa cosa qui però lì invece è qualcosa di estremamente presente ancora nonostante i numeri di vendite non siano sempre così incoraggianti perché per dire comunque adesso c'è il jump vende dalle 2 3 milioni di copie più o meno fino anche a 4 mi sa ancora riesce ancora ad aggiungere ogni tanto il picco però prima per esempio 4 era la normalità era la media nei primi anni 2000 e ancora prima c'era un numero ancora maggiore di vendite così come per tutte le altre riviste e oggi bene o male anche un shonen red shonen champion wiki afternoon e così via faticano oggi ad archivare per esempio al milione di copie jump è l'unico che ce la fa con costanza e questo è un problema per noi perché così ci viene comunicata soltanto jump anche perché nel momento in cui non si vive quella dimensione di pubblicazione quell'idea quel metodo pubblicativo quello che viene comunicato è ciò che nella nostra idea prende il simbolo di quella industria quindi shonen jump essendo quello che ci viene comunicato e di cui diremmo tutti gli influencer poi di manga continuano a discutere diventa il simbolo della rivista di fumetto in giappone anche se tuttavia non lo è perché poi jump è il simbolo di se stessa ci proprio la vogliamo mettere tutta come si fanno le cose lì non si fanno in nessun'altra rivista di fumetto andiamo a vedere sui filler che c'era un po' di discussione non capirò mai chi salta i filler dice gli rossatele se non vuoi vedere da tutti i cosi e ti metto a cercare la corrispondenza uno a uno tra i capitoli del manga e gli episodi di internet punti risaltabili ma legge il manga chi devo far fare sto lavoraccio eh sì torniamo per esempio a quel discorso che può anche un po' sembrare elitista se vogliamo ho sentito anche un po' di critiche in questo senso quando diciamo appunto fate leggere il manga però è bisogna anche un attimo provare a capire perché io sto guardando l'anime perché io sto spendendo ore e ore del mio tempo a guardarmi 350 puntate piuttosto che mettermi e leggermi il manga se poi l'esperienza che voglio avere è quella del manga perché il problema di apprezzamento dell'anime parte sempre da questo approccio qua dall'idea che nel momento in cui io guardo l'anime di un manga devo sempre riferirmi al manga devo sempre avere in testa l'idea che è un adattamento e quindi pensare a quanto possa essere apprezzabile in relazione a quello ma facendo così non ci goderemo mai quello che stiamo guardando avremo sempre dei peggiudizi troppo forti per riuscire a comprendere e apprezzare la bellezza che ci sta venendo mostrata poi nel caso di Bleach magari non si parla troppo di bellezza è vero è solo un esempio poi che cazzo di lavoraccio ma come anche chi dice ho finito di vedere la prima stagione di Anime X mi dite a che capitolo del manga è arrivato così inizio da là anche questo abbiamo discusso in questi giorni ma è un po' una pratica che proprio annulla l'identità di poi gli entrambi media perché non hai letto il manga non sai che cosa è successo prima pure se la storia è uguale non è non lo è e qua è sempre difficile riuscire ad essere chiari nello spiegare il fatto che l'anime e il manga parlano attraverso linguaggi diversi e quindi anche raccontando la stessa cosa non potranno mai essere simili tra di loro non potranno mai essere comparabili o realmente considerabili come la stessa cosa perché mi parlano attraverso cose diverse attraverso linguaggi diversi e quindi proprio siamo su due altri mondi è come dire è proprio come dire io sono un un mammifero sì ma sono un essere umano in prima cosa perché il mammifero è pure delfino ma io come delfino non ci posso parlare non gli posso chiedere come sta andando la giornata se tutto è a posto se è riuscito a fare 7.30 e così via mi piacerebbe per carità che poi sono sicuro che i delfini sono bravissimi a fare 7.30 però purtroppo non mi capiscono o almeno io poi non capisco loro perché sono sicuro che sono più intellincente di me dice Kitzaru Tengu io non sono un fan di interi archi narrativi filler ma giunte oculate è arrivato dopo una profonda comprensione di un'opera o di un personaggio esempio perfetto per me sono le aggiunte accuratiche fatte nell'anime del 99 le pechette del clan curta prima di affrontare uvo o il suo malessere dopo detto scontro ecco questi sono dei piccoli dettagli che vengono aggiunti per dare anche un'idea diversa del personaggio o magari approfondirlo un po' di più sotto un punto di vista che non sia strettamente quello di Tovashi però secondo me anche l'ideare intere storie che si ascrivano bene all'identità della storia e quindi proseguano nell'idea di raccontare la stessa storia del fumetto non c'è nulla di male è anche mettersi in gioco da parte dello staff che è anche una cosa necessaria e che ti badisce l'identità degli anime in quanto tali che non a caso ultimamente stiamo cercando di premere un po' di più sull'idea che ogni anime originale non solo quelli che partono da un'idea totalmente nuova ma anche e soprattutto gli adattamenti perché il processo la lavorazione e la creazione partono da idee diverse partono da presupposti diversi e da modi di narrare diversi quindi un anime non può essere umana neanche se la base di partenza è quella e quindi ritornando al discorso di prima dare una nuova prospettiva una nuova storia un nuovo arco di storie che si aggiungano a quelle già esistenti magari dando una prospettiva diversa come si diceva prima è soltanto un aggiungere è soltanto un provare a ribadire quanto l'anime debba essere considerato come un oggetto estraneo rispetto al manga ho visto ben poco di serie specialmente di lunga durata con particolari filler ma di base non vedo perché uno spettatore debba farsi problemi rispetto all'aderenza e al materiale originale che è un'altra cosa lo spettatore io voglio solo guardare qualcosa di bello per il resto beh una pubblicazione concepita per essere lunga è difficile non aspettarsi momenti per ripendere fiato da accettare entro certi limiti ovviamente ecco Vittorio forse non lo sai perché non so se il manga di Nero Gami l'hai letto ma tutta la parte finale della prima stagione di Nero Gami è un filler teoricamente è una parte che nel manga non esiste che è stata creata ad hoc per dare una conclusione originale alla prima stagione e che però si lega benissimo all'intera identità dell'opera perché appunto continua ad raccontare per esempio il dolore di Ghiato nella presa di coscienza delle sue responsabilità continua a raccontare il percorso di Ghiatori si chiamava la ragazza e del dello speed con capelli biondi ma mi ricordo di noi perché sono passati di troppo tempo quindi continua ad essere un ragami pur non essendo fedele a quella che è la storia originale poi abbiamo fatto tutto il discorso su Fullmetal Alchemist che è proprio un cambiare la storia poi non è magari considerabile totalmente come filler da quel punto di vista lì però anche qui torniamo allo stesso discorso se un sceneggiatore è capace totalmente di capire quella che è la personalità della storia e di essere fedele ad essa piuttosto che alla professione narrativa beh venga che prova a raccontare qualcosa di diverso ok si parlava ragazzi scusate devo rispondere a questa perché cazzo prova a fare il simpaticone però io ci ho già risposto tipo cinque volte a che cosa ne pensi dei gormiti perché è una domanda che fate spesso ed evidentemente fa parte della vostra infanzia come serie però io ero già troppo grandicello quando sono usciti andavo alle medie avevo cercato di prendere i giocattoli per esempio di fare qualche partitina con gli amici prima media però subito dopo come potete ben intuire come potete ben intuire loro sono passati a tutt'altro interessi e io ho lasciato perdere i gormiti per interessarvi invece a un utilizzo diverso di anime e manga mettiamola così perché ancora non ero pronto alle donne in carne d'ossa e forse non lo sono tuttora però c'è da c'è da vedere su questo punto di vista qua quindi in realtà io non sono mai stato un fruttore così appassionato della serie animata che ho visto in maniera totalmente disinteressata che francamente non ho mai colpito a livello tecnico di certo non poteva farcela perché davvero la classica serie italiana realizzata a basso budget con un sacco di outsourcing nell'estasia e poi a livello di storia è proprio bambini ciao idolo come state tutto bene sì anche a me fa schifo Tokyo Revenger ti posso dire a mia riguardo se ti interessa no in realtà non mi interessa su scotta te le puoi andare vaffanculo sto scherzando sto scherzando non riesco a fare anche più le battute ragazzi sono davvero un attimo esorito ricordatevi la prossima volta di prendere l'acqua perché davvero è impossibile riuscire a fare una live anche soltanto di un'ora e mezza non bevendo neanche un bicchiere però sì in realtà la parte su Tokyo Revenger se l'abbiamo un attimo liquidata poi magari dopo vedi un secondo se ti va a recuperarla se ti ritrovi nelle idee che ho espresso io perché a me la prima parte mi è piaciuta tantissimo infatti ci sono anche la testimonianza del mio video per esempio che te lo puoi dire tranquillamente quella che era la mia opinione iniziale della serie però negli ultimi cento capitoli per me c'è stato un declino verticale da fare inesorabile e ormai impossibile da fermare poi comunque magari dici leggo e vedo un pochettino che cosa ne pensi ciao vi sono appena finito di guardare la prima e la quinta stagione di Major posso iniziare da Major stagione 6 show ogni volta che sento cose del genere a me vengono i flashback del Vietnam di quando su un gruppo di Gundam le persone consigliavano di cominciare a guardare la serie da Gundam Unicorn perché è una serie recente è fatta molto bene ed è da fare interessante non è di Levante che sia ambientata in un tempo avanzatissimo della linea principale e che c'è bisogno di vedere almeno altre 6 serie prima per comprendere anche solo un minimo dettaglio della relazione che cazzo se ne frega no? vabbè questo è un discorso non c'entra a noi vai io direi ragazzi voglio trovare un attimo una domanda che riesca a collegarmi un attimo all'ultimo tema non la sto trovando quindi facciamo che leggo la domanda a me di Rosatello e poi ve lo illustro o almeno ne discutiamo che ora non voglio illustrare Italo se ATT fosse Big 3 di Shonen Jump chi sarebbe Bleach? chi può essere Bleach secondo te? Paolo ma senza proprio ombra di dubbio quello che più ama il caos quello che più non ha un'idea di che cosa vuole raccontare quello che più ama vedere gli spettatori contorcersi in agonia e a bramare la morte proprio è inutile anche soltanto pensarci proprio lui poi io ovviamente sono Naruto perché sono partito molto bene ma con gli anni mi sono totalmente rovinato e poi c'è Giaggio che è One Piece perché fundamentalmente è il più costante di quello che anche tra gli altri e i bassi riesce sempre a rimanere il più amato del trio e poi lo sappiamo che sono io il più amato del trio però continuiamo a mantenere questa illusione per Giaggio perché sennò poi ci rimane male mi raccomando ok va bene parliamo un attimino ragazzi giusto vedere che cosa ne pensate voi perché a me interessa molto relativamente come potete ben immaginare che cosa ne pensate della chiusura di Manga Vibe non so se lo sapete tutti quanti ma appunto la rivista che era stata lanciata ormai da più di un anno da Shockdom è stata appunto chiusa temporaneamente l'annuncio di Shockdom recitava che per colpa dell'aumento del costo della carta e della sua professiva scomparsa non riescono più a sostenere i corsi di stampa o comunque a stampare Manga Vibe che però stava andando benissimo aveva dei numeri veramente pazzeschi riusciva ancora a coinvolgere i lettori come assolutamente al primo giorno e di conseguenza un esperimento o almeno quello che è stato definito così all'epoca del suo lancio arriva alla sua temporanea chiusura chiando le somme dal vostro punto di vista almeno se c'è qualcuno che l'ha seguito con un po' più costanza di me è qualcosa che ha raggiunto l'obiettivo che almeno la premessa del primo volume si poneva ovvero quello di creare una rivista almeno un'alternativa alle riviste manga in Italia perché di punto di vista non ci hanno neanche provato sin dal primo volume l'idea che stava dietro manga vibe non era per nulla comparabile a quella di una reale rivista di manga che non è semplicemente un contenitore ma è una vera propria rivista è un magazine con tutti i crismi che segue tutti i crismi per i quali si fanno i magazine quindi ha per esempio uno spazio della posta ha tantissime pubblicità ha tantissime informazioni riguardanti i prodotti che stanno all'interno giochi promozioni offerte un botto di robe che all'interno di manga vibe non sono mai state presenti come neanche approfondimenti o cose che da un punto di vista culturale potevano dare alla rivista un'identità vera e propria come invece ha fatto manga senpai che seppur comunque a me non piaccia come operazione ha un'idea alla base ben più solida e vicina alla realtà della rivista fumettistica giapponese invece lì c'era semplicemente un buttare un determinato numero di fumetti è un romanga e sperare che qualcuno abboccasse all'amo trovandoli interessanti tutto qua poi alla fin fine nulla di veramente ragionato o che permettesse dal mio punto di vista alla rivista di avere una reale prospettiva di vita perché poi se vi ricordate quando venne annunciata e arrivò nell'edicolo e nelle fumetterie una delle prime cose che tutto il trio di anime tilda concordò è che non aveva molto tempo prima di chiudere e bene o male ha anche superato le nostre aspettative perché noi mi sa che gli avevamo dato dai 6 agli 8 mesi e ha durato più di un anno l'esperimento lì ci sta però dubito fortemente che potrà tornare nel breve termine ecco forse show già inizia a dare uno dei primi indizi perché un'idea del genere di base vita breve nel senso forse se smettessero di chiamare gente che voleva solo scignottare il suo battuto preferito forse venderebbero due copie in più ma io in realtà penso che possano vendere avrebbero potuto vendere molto di più se alla base della rivista ci fosse stato il concetto per il quale le riviste giapponesi hanno una forza ovvero l'educazione del lettore alla rivista manga senpai non credo sta andando male ma perché da quella bardicata lì c'è stata l'idea per esempio di ricorrere agli influencer di dare subito una credibilità culturale alla rivista e non solo qualitativa che era quello su cui magari puntava un po' di più la redazione di shockdom anche se francamente te con tutto il bene che voglio a Luca se chiami una persona che ha fatto due fumetti in croce e nessuno dei due è bello per fare uno dei fumetti di punta della rivista non c'hai bene in mente che cosa fare ma lasciamo per il fatto è che purtroppo in Italia noi abbiamo la cultura del tankobon abbiamo l'idea di voler leggere il fumetto che ci interessa non tanto di voler leggere fumetto che poi è la cosa di cui abbiamo parlato anche ultimamente con Kirio per i giorni fa quindi un'operazione del genere è destinata già a fallire se non trova altri appoggi per riuscire a portare l'attenzione del pubblico su di sé e non è tanto solo la mancanza precisa di un'identità che poi per me è un problema generale dell'euro manga non solo di manga vibe intesa come rivista fossero fumetti italiani non come di fumetti giapponesi fatti male sarebbero anche interessanti che poi è lo stesso commento di show però l'ho un attimo agglaitato perché per esempio gli è stato annunciato che Sweet Paprika verrà pubblicato in Giappone Sweet Paprika è un fumetto di Mirkandolfo che a breve dovrebbe diventare anche una serie animata interamente italiana quindi un po' sulla falsarica della serie di Zero Calcare però anche questa è stata annunciata più o meno nel stesso periodo quindi non è nata sulla scia di quel successo lì e arriverà in Giappone Mirkandolfo comunque già conosciuta moltissimo all'evento nazionale amatissima in America la DC e la Marvel l'hanno presa per fare diverse cover variant di fumetti anche un certo spessore e arriva quindi in Giappone con molto clamore dietro a quanto pare per una casa editrice molto importante che pubblica proprio manga però ci ha tenuto a precisare che non sarà un manga e anche questo inizia un attimo a farmi pensare un po' di più perché è una tendenza al volersi a scrivere a quello che ci piace al voler dire io faccio manga perché a me fondamentalmente quelli piacciono la maggior parte degli autori di romanga quelli che conosco io e per come mi sono abituato a vederli non sono lettori di fumetto a 360 gradi nella maggior parte dei casi tranquillamente che si legge che si legge Bay Blade come si legge Daredevil e così via però la maggior parte sono tesi sono parte del pubblico del fumetto giapponese quindi non c'hanno un reale attaccamento al fare fumetto ma più che altro una volontà di essere mangaka di fare manga perché è quello che le ha portate a sviluppare questa passione fondamentalmente mentre invece l'idea di dover fare fumetto doveva partire proprio da quella passione là le voleva raccontare una storia perché la vuoi raccontare in pratica tramite le immagini il disegno non tanto perché vuoi fare manga perché voi avete una griglia ben precisa con l'incostazione in tanque e nero bla 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 ma vabbè così ecco io penso che un grossissimo problema è anche di voler essere un'alternativa alla roba giapponese io penso non ci sia nulla di più deleterio di vendersi e vendere con la premessa dell'alternativa di x o nuovo y assolutamente sì perché se io devo cercare l'alternativa ma tanto vale che mi cerco l'originale perché devo provare a leggere quello che già si presenta come una copia di non ha proprio il minimo senso cercare il prodotto B quando dice il prodotto A no però spezziamo una lancia al fuori del movimento e romanga che comunque distrattiamo un po' troppo in questa chat in queste live un po' più di personalizzazione di identità negli ultimi tempi c'è c'è ci sono diversi autori che stanno cercando per esempio di ibridare anche stili europei che hanno una formazione differente che stanno anche cercando poi di raccontare altri tipi di storie non legate estrettamente per esempio al battle e così via io non so se lo sai ma c'è una rivista chiamata euromanga che pubblica in Giappone pubblica mensilmente capitoli di opere varie già uscite in Europa francese italiana e belga sì sì lo so l'avevo dato che mi sa l'avevamo discusso un po' di tempo fa parlato stesso in un venerdì e per me non c'è assolutamente nulla di male perché poi in realtà è una cosa che in Giappone quasi per forza di cose può andare bene il successo di Radiant di cui pure abbiamo discusso diverse volte è dovuto proprio al fatto che è una classica serie battle che si ascrive al movimento al filone di tutte quelle storie alla fairy tale alla dragonborn estremamente classiche che in Giappone continuano a piacere e che richiedono anche la voce e soprattutto l'idea giapponese che uno straniero faccia qualcosa che piace ai giapponesi è ancor più lusinghiera quindi porta ancora di più il pubblico nipponico ad essere interessato a questo tipo di operazioni però invece dal punto di vista mio occidentale di una persona che è abituata al fumetto giapponese e tanto quanto lo è poi al fumetto italiano piuttosto che europeo in generale o medicano non voglio un'imitazione non voglio qualcosa che riprenda uno a uno quello che già altri cento mangaka hanno fatto molto meglio soltanto per un valore di affezione a quei grismi lì io vorrei che si interpretasse il fumetto giapponese per come lo vediamo noi per quello che siamo noi italiani un po' come fa Vincenzo Filosa per dire che se non conoscete vi invito assolutamente a scoprire perché è probabilmente il miglior mangaka italiano che abbiamo al momento quello che più capisce che cosa vuol dire fare manga secondo me da un punto di vista di un occidentale vi consiglio tantissimo sia viaggio a Tokyo che Italo che non a caso è il titolo omonimo al mio nome perché parla di me è la mia storia ecco Daniel chiede proprio che posizioni hai nei confronti dei cosiddetti manga italiani che cosa devono avere queste opere per evitare di risultare come copie fatte male dei manga lasciando da parte la questione dello stile manga pensi davvero che il mercato dei manga italiani possa avere consensi più o meno ci ha disposto a spizzi e bocconi in tutta questa discussione però io generalmente non ho un'idea molto positiva di tutto il movimento euro manga in generale proprio perché parte come imitazione e negli anni c'è stata un'evoluzione forse fin troppo poco graduale però in Francia piuttosto che in Italia ultimamente qualche segnale positivo c'è stato secondo me anche perché poi non si vede l'influenza del manga secondo me soltanto da un punto di vista narrativo inteso come impostazione della struttura vignettistica e così via proprio di tecnica fumettistica ma anche soltanto di influenza visiva perché per esempio Barbucci piuttosto che Barbara Canepa sono autori estremamente influenzati dal manga e si vede tantissimo ma come anche un Joma Dureira per il fumetto superistico americano o un cosa Stuart Timmonen che proprio il costile puzza estremamente di Otomo sono autori molto influenzati dal manga e per me è una cosa positiva che il manga possa influenzare altri autori di altre nazionalità è un problema quando l'idea di manga italiano diventa quella di una replica in salsa italiana e questa salsa italiana non è rappresentabile come idea culturale come riferimento come parte dei nostri meccanismi narrativi ma come semplicemente nazionalità è un manga italiano perché è pubblicato in Italia ma poi è praticamente un fumetto giapponese io preferisco molto di più l'idea di realizzare un fumetto magari tramite quelle idee quella visione anche di che cosa deve essere il fumetto però parlando attraverso se stessi perché a noi poi manca la necessità di fare manga secondo che crismi perché il manga di shonenjump deve essere sempre così perché appunto c'è la necessità di farlo perché il pubblico vuole quei crismi lì ed è una cosa che ormai va avanti da 70 anni quindi è un po' difficile prendere e cambiare c'è anche bisogno in questo senso qui magari di tempo perché il pubblico cresca e si renda conto di avere anche necessità differenti mentre in Italia noi non abbiamo il sistema delle riviste non abbiamo quella necessità di costruire di creare un sistema un meccanismo per il quale il gusto del pubblico sia costantemente soddisfatto con storie tutte simili tra di loro o che magari seguono dei percorsi già battuti da tante altre storie se vuoi creare un movimento reale all'interno di un discorso culturale secondo me devi iniziare a fare qualcosa di tuo di veramente italiano che non lo sia soltanto a livello di nazionalità ma anche a livello proprio di forza e di quello che si racconta per esempio perché i manga non sono mai inventati in Italia i manga italiani non sono mai inventati in Italia perché è così raro vederla come inventazione perché appunto non la si riesce a percepire come un'ambitazione interessante o stimolante però come fai poi a definirti manga italiano se continui a fare robe estremamente giapponesi quello mi dà un pochettino fastidio diciamo posso avere consensi sì ma più che altro perché questo è un discorso che io ti faccio l'ha detto di manga navigato da uno che ha già ben chiaro quali sono i suoi desideri che cosa vuole leggere però il pubblico di manga attuale è un pubblico molto giovane e quindi non ha bene idea per esempio di che cosa leggere e il manga italiano rappresenta comunque una cosa molto interessante che può dare anche un'idea di appartenenza a qualcosa di diverso perché magari se un ragazzo oggi pensa a Tex pensa a qualcosa di estremamente vecchio qualcosa che appartiene alla generazione dei propri palli e che lui non può più né comprendere né apprezzare mentre se invece pensa a un manga italiano pensa a qualcosa di estremamente fresco qualcosa di estremamente che appartiene almeno secondo lui alla sua generazione quindi è più facile che sia attratto per esempio da quello che da un fumetto italiano a caso io comunque ogni volta che ne ho l'occasione vi continuo a dire che noi a livello di fumetto italiano oggi abbiamo un ottimo panorama che dovrebbe essere scoperto di più perché purtroppo poi è quasi paradossale vedere come il pubblico dei manga per esempio sia molto più interessato ai manga italiani che non ha Spugna Pabllo Cammello Nova e così via per non fare i nomi dei fumettisti super popolari tipo G.P. E.Zero Calcare ce ne sono tanti che andrebbero scoperti oggi che invece purtroppo non riescono a prendere piede in un pubblico che potrebbe apprezzarvi tanto perché per esempio Spugna no faccio del pacchettavo Spugna è uno profondamente influenzato da un abisso cioè gli piace tantissimo un abisso e si vede ma poi è influenzato anche proprio dal manga di botte da quell'idea là di una progressione narrativa fatta di mazzate costanti e infinite e guardate qua che cazzo fa vabbè veramente allucinate allucinanti pieni di sangue distorte veramente cupissime grottesche e questo è un fumettista ed era un giovanissimo che viene pubblicato vabbè la casa editrice minore questa era di quella casa editrice che pubblicava anche robe di Shitalo Kago quelle robe un po' più strane ma sicuramente ho già scritto adesso una parte c'è il logo ma riesco bene a leggere che cazzo sia poi ha pubblicato mi pare per Grisetic se non mi sbaglio male quindi peccato che dice piccole però è un talento da valorizzare e che è anche influenzato dall'offimento giapponese quindi avrebbe per esempio degli anelli di congiunzione con il pubblico del manga però non lo puoi scoprire perché non fa manga italiano e vabbè ci sono altre domande ragazzi però io oggi non so come ho retto fino a qui devo essere sincero Pierpo diciamo che rispondo a queste due domande rapidissime dai oggi sono davvero troppo di cuore buono Pierpo ti dico aspetta una settimana o due che esce tipo un video veramente totale tombale sulla questione su Kachinamberate perché non aveva letto la domanda di Pierpo Eureka l'ho letto Kuro Senkaku e mi è piaciuto molto io dico che comunque sono un fan è uno dei pochi autori di cui mi piace davvero tutto e di cui mi piacciono anche le cose super controverse e discutibili come per esempio il finale di Kiseju e Eureka è appunto il punto in cui lui ha cominciato a voler raccontare qualcosa di più storico di più legato alla storia in realtà l'aveva già fatto nella terra di Tanabata però quella non era una serie propriamente storica qui sposta il punto di vista appunto su Archimede va l'antica Grecia ed è un po' un'anticipazione di quello che vediamo in coso in histori istori istori non so come cazzo si dica istuar non so come cazzo si dica che secondo me è più cupo più crudo però anche qui vediamo tanti piccoli indizi di quello che poi andrà a fare lì mi è piaciuto molto che racconta una storia che comunque già conoscevo che è una storia abbastanza famosa quella di della sedia di Siracusa di Archimede che fa tutta la roba del sistema di specchi e leve raccontata con la capacità narrativa di Waki che io adoro sempre tantissimo e va bene così dai finiamo con queste ultime domande non voglio leggere questa cosa che appena letto di Willard perché se no non finiamo più vi ringrazio per essere stati qui con me venerdì vedo che anche nelle live che facciamo singole iniziate ad essere un pochettino di più sono molto contento di questa cosa dal mio punto di vista poi anche da quello di Giaggio è un po' più difficile farle perché sapete è difficile parlare per due ore di seguito senza avere qualcuno che ti sia da supporto e che ti permette di prenderti appunto quelle bolle d'aria famose di cui parlavamo prima quindi grazie mille che è importante anche questo supporto per noi ci fa crescere da questo punto di vista mi fate un attimo capire anche quando riesco a coinvolgere di meglio e quando meno quindi grazie tantissime per essere stati con me per una volta oggi invece di essere solo io quello che ha reso contento voi è successo il contrario e vi auguro ovviamente un buon weekend vi ricordo come al solito che domenica vi ritrovate con Paolo sempre alle 16 lunedì c'è il ritorno del lunedì Giaggio ieri Paolo ha detto domenica Paolo quindi adesso diciamo lunedì Giaggio e se posso spammarmi diciamo che domani esce un video in cui faccio un recappone delle cose che ho visto a marzo più o meno sono cose di cui parliamo solitamente anche qui live però se siete interessati a sentirmi parlare anche di animazione occidentale parlate pure di guerra nel video andate poi domani sintonizzatevi alle 2 sul canale di noi ci rivediamo come al solito martedì buoni weekend ragazzi non spaccatevi troppo ciao non spaccatevi Grazie a tutti